signore e signori siete di nuovo collegati con roma con l'inizio del viale di santa croce in gerusalemme alla vostra destra eccola in quadro la basilica di santa croce nel nome appunto del virus che non ci spaventa si esibiscono diversi cantanti a secondo dell'appartamento occupato dell'appartamento appunto da dove vengono i suoni l'orchestra arbore canta tutta gallara sul viale di santa croce sì i canti più popolari più tradizionali della tradizione partenopea grazie e a risentirci siamo purtroppo tutti quanti impazziti